No, mi aspettavo, Mourinho è affezionato a noi e c'è un buon ricordo di quello che possa essere stata la sua esperienza qui, tanto quanto ce l'abbiamo noi, al di là dei risultati anche proprio dal punto di vista umano, e quindi mi fa piacere insieme alle persone che hanno questo tipo di sentimento e di lealtà costante. Siete sentiti con Mourinho perché si è letto anche di contatti? No, ci sono stati dei contatti, ma sono stati sms o cose di questo genere, oppure contatti che erano soltanto di simpatia, ma non di progetti o programmi. Quindi potrà tornare un giorno Mourinho? Beh, questo è il futuro, non so.